Maria, allora è una sconfitta, però si può anche essere contenti di questo risultato. Sì, è giusto. Noi abbiamo parlato prima di questa partita, che è molto importante, dopo che noi sentiamo che siamo soddisfatti. Secondo me dopo questa partita noi siamo soddisfatti, ha preso un gol, però sappiamo prima che questa è una molto buona squadra, così questo risultato è un bene risultato per noi qua in Svezia.